Non bloccarlo! Mai! Ti posso dire che da narcisista quando vengo bloccata io sboccio lo champagne perché per me è una dimostrazione d'amore, cioè ti blocco uguale ti amo, è proprio una dimostrazione di rosicamento, è un segnale, no? Quindi se volete far vedere, se vuoi far vedere di essere disinteressata assolutamente non bloccarlo, non bloccarlo, ignoralo piuttosto ma non bloccarlo perché è proprio come dirgli ti amo.